Sono qui anzitutto per conoscere, per vedere che cosa accade in questa parte del mondo dove uomini, donne di diverse parti del mondo in conflitto si incontrano e scambiano amicizie, costruiscono assieme una possibilità di mondo nuovo. Sono il segretario della CEI e la CEI ha investito su questa possibilità, costruire la pace educando gli uomini. Non è possibile l'educazione senza un incontro, senza la possibilità di un'amicizia a duratura capace di sfidare il conflitto per costruire un buon futuro. Sono qui quindi per conoscere, per incoraggiare e per pensare come questo metodo possa dilatarsi.